E' una delle ville più belle del lago d'Orta del Cusio e forse non solo. Villa Nigra sta rivevendo davvero una seconda giovinezza grazie a un'operazione di restauro in modo particolare. Architetto Bertinotti, a che punto siamo? Abbiamo iniziato nel 2017 con il recupero dell'arancera, poi c'è stato il recupero di altre due sali, adesso abbiamo completato queste sali al piano terra. Abbiamo lavorato su una delle parti più antiche, partiamo dalla parte del Cinquecento, con interventi che sono stati fatti dal Nigra, all'architetto Carlo Nigra, all'inizio del Novecento. Siamo contentissimi di questo lavoro, è stato un bellissimo lavoro di squadra, fatto con l'amministrazione, con le associazioni culturali. E poi ci sono, posso dire, alcune parole chiave che hanno guidato questo intervento. Sicuramente recupero, riuso, perché ogni volta che questi spazi sono stati recuperati sono stati anche riutilizzati. Valorizzazione, valorizzazione in termini di materia, proprio di qualità dello spazio e di atmosfere. E direi anche rugosità, cioè ci piace definire questi spazi un po' rugosi, cioè che hanno mantenuto quella patina del tempo. Quale potrebbe essere il futuro poi di questa villa? Sicuramente spazi culturali, come stanno avvenendo adesso, degli spazi, come ci sono già in predisposizione adesso, degli spazi co-working, degli spazi sempre aperti, tipo questo spazio che diventerà una caffetteria. Cioè sempre questo concetto di rete, di connessione, di realtà diverse, per diventare un polo, un polo culturale, un polo di sviluppo turistico significativo. Però i finanziamenti non bastano mai. Ecco allora che l'amministrazione ha lanciato questa nuova idea, adottare addirittura, non solo una frescomunitera parete. Sì, adotta una parete, è un progetto promosso dall'amministrazione grazie all'Art Bonus. Si può diventare mecenati della Villa Nigra. L'Art Bonus, appunto come dicevo, diventi un mecenate, offre l'opportunità alle persone di avere anche un recupero di detrazione d'imposta del 65%. Quindi vi aspettiamo per far crescere insieme a noi le meravigliosi affreschi presenti in questa villa.